Ma comunque è vero, non so voi, se siete qualcosa di bello da leggere e ti sei lì anche... Oppure ti porto il cellulare con il Wi-Fi Stai bene No manca, tu stai male Ti hai resi conto che l'unica volta nella mia vita che per noi esuvo la mia error? Diciamo che la mid lane, sia nostra che nemica, finirà a 0.25 Sia noi che loro Perché il mio Luciano si chiama con un Opel? What? Come si chiama Astra? Si chiama Surcharge Alpha 80, tipo quelle cose... Ma cosa stai dicendo? Si chiama Surcharge Alpha 80, si chiama Surcharge Alpha 80 E con l'Opel cosa c'entra? Dio f*** Ah, per questo lui Tu c'hai più main di me, no Eh, padre ci dice Sono rimasto vivo I have 9 older than you Che cosa? Che cosa? Lo so, sono una cosa Non ho mana per fare... Ma dai Niente No, non può essere vero No, cazzo, vuoi il blue? Così gravi di più Ok Però aspetta, devo fare le... Sei main? Non puoi bene Cazzo Teppure il resto è stato verso Dio Tu mangia Ulta, ulta Hai mangiato? Vabbè, tu mi sprecati un flash e ciao, io non l'ho finito What the fuck? What the fuck? O.M.G. O.M.G. L'avete visto tutti? Io l'avete visto? O.M.G. Quanto indietro sei quella builder? Io non ho parole Io non ho parole Non ho parole Telecom di merda Mori male Ti siete saltato con due colpi O.M.G. Get up, get up, get up Oh my God, oh my God, oh my God Get up, get up Welcome to the face, Dan Stop, get up Stop, get up Stop, get up Giù la torre scappa Sì Che palle Vabbè, ok Un match say Ma io l'aco Ma è possibile che ogni volta entro i piedi Mentre ti fa' la gare eh chissà non c'è abbastanza da me OMG l'ha fatta famma mettiamo word macco mettiamo word scherzavo non vengo pure l'inniite io ho visto un'inniite la ragazzi vedete che Yasuo il nostro puja ha 14 6 7 di score ma semmai sarà caricato questo video in ranked queste cose con me non le fa mai si inverte il risultato diventa 6 14 vedi quel minion lo farà così no no quelli che sono ranged ah manca sti grab qua troppi basta ha fatto più grab oggi che in tutta la tua vita il chaleggio il culo mao tutto calcolato si si proprio che se cosa stai facendo vinta la tavolo col fuoco oh la presa mamma mia con quale range la ward guarda il vision con quale range spargo guarda che sto anche io non usa lei infatti non usa la tipa della enel ma non la sa no le vuole mettere in height gg easy gg ci vediamo ad un prossimo video che passa amico che passa amico che passa che passa amico che passa amico che passa amico ciao 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 ciao